Buonasera, sì, per bambini di 4 anni. Benvenuti, sì, 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 è quel mio. Siamo in onda? Siete in onda, siete in onda. Ah, siamo in onda? Eh, sì, sì. Ciao, ciao, ciao. Tra poco c'è un libro per bambini, ma è una cosa bellissima. Questi sono i dialoghi pre-gara degli atleti che stanno per presentare le iene, come vedete. È una cosa strafenda, bello, bello. Hai capito? Savino, è un libro a fumetti, c'erano 12 parole. Un minuto. No, anche se lo posso leggermi via. È certo. Siamo per partire. L'anteprima l'anteprima. La fa lui l'anteprima. La fa lui con questo splendido pubblico. Beh, bellissimo. Pronti? Postura! Yeah, postura! È carica, mi caricate un po'. Non ho ancora fatto l'anteprima. Tenta? 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 A voi in te! Grazie! Grazie, grazie. Diretta, qua, tra poco. Dieci secondi. Sì, dieci, quindici. Dieci, quindici. Cinque, quattro, tre, due... Buona sera! Buona sera! Buona sera! A tutti la appuntata di Medica delle Belle Iene, anche se non sarà l'ultima, perché mercoledì ci saranno ancora Ila Riblasi, Tio Manmucari e la Zalappas. Abbiamo un sacco di servizi pronti, siamo in diretta, sono le 22.14, torniamo tra un minuto e un minuto. Siete dietro al bollo? Entrano i bolli, entra Giulio, ultimo restyling a Giulio Golia. A me ci vuole proprio. Stucco e pittura fa bella figura. Vogliono i miracoli. Tu avanzi e fai giro. Fai giro. Così. E io me ne vado. 30 secondi. Mi come lì? La comanda quando parla Nadia è la forza. Qua per favore. 4, 3, 2, 1. 5, 3, 2, 1. Grazie a tutti per aver guardato il video.